ovviamente voglio fare gli auguri al presidente voglio fare gli auguri a nome di tanti tanti italiani che ammirano il presidente non potete capire quante volte leggo nei commenti quanto vorremmo avere un presidente come Vladimir Vladimir Putin perché è un po il sogno di tanti italiani avere una persona un presidente con un tale carisma tale personalità che poi spesso ha anche parlato bene dell'Italia e degli italiani e quindi questo gli italiani non lo dimenticano e quindi tanti tanti auguri presidente da Vairassia bravo ovviamente voglio complimentoni complimentoni tanti 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 italiani ti scrivono nei commenti quanto amano Putin che poi alla fine insomma a livello logico il motivo per cui amate questo personaggio è perché è carismatico a personalità e ha parlato bene dell'Italia insomma avete poche pretese insomma per essere un buon presidente basta è questo quindi carisma personalità parlare bene dell'Italia ottimo direi bellissimi commenti che non posso leggere per la censura di Putin aveva il primo non lo leggo lo lascio leggere a voi ma aveva l'ipersalivazione mentre parlava bene cari amici mi dispiace mi dispiace se ho aperto così male oggi ma proprio male come direbbe barba scura quindi andiamo avanti perché insomma oggi è il compleanno di Vladimir Putin e i regali per lui dall'Italia arrivano quindi anche Torino augura un buon compleanno al presidente della Russia Vladimir Putin bellissimo il commento che dice ma dove sta sta schifezza che la vado a togliere personalmente ottimo direi bene comunque per la legge del contrabbasso ecco che arrivano anche altre altre informazioni altre idee dall'Italia comunque apriamo il video di oggi con il compleanno 72esimo compleanno di Putin 72 anni fa il mondo ci regalava questo personaggio responsabile della distruzione di due paesi il suo è l'Ucraina complimentoni quindi andiamo avanti allora giusto per fare il bilancio della situazione nell'ultimo anno questo è stato quello che ha ottenuto la Russia il secondo esercito o il primo esercito più forte del mondo secondo i filorussi quindi questo ci dà un'idea insomma che i progressi fatti sono piccolissimi come ho detto giorni fa in confronto l'Ucraina in un mese ha ottenuto di più beh poi è chiaro che la regione del Kursk era meno difesa però però ecco questo ci dà un'idea tra l'altro questo anche questo un regalino per il signor Putin è la stima del personale eliminato 661.630 soldati quindi ieri il conteggio avviene giorno per giorno ieri si segnalano 1160 russi soldati russi caduti caduti male come direbbe sempre barba scura perché insomma i filmati arrivano le geolocalizzazioni arrivano e se non vengono arrostiti vivi all'interno dei carri armati che hanno la pessima abitudine di fare il lancio della torretta perché i russi costruiscono i carri armati con le munizioni al loro interno non si fa perché voglio dire un equipaggio cotto è un equipaggio che non può tornare a combattere e succede sempre quindi ieri 14 volte l'equipaggio è rimasto scottato dalla situazione poi la stessa cosa per i mezzi corazzati ieri 31 17.000 dall'inizio del conflitto quasi 18.000 quasi 20.000 pezzi di artiglieria 1200 pezzi speciali di artiglieria quasi mille sistemi di difesa aerea che questo è un dato terrificante per la russia voglio dire cioè se consideriamo che la russia come popolazione è tre volte l'italia e l'italia avrà se no 200 sistemi di difesa aerea ci dà un'idea delle proporzioni bibliche di questo disastro la stessa cosa per esempio vale per la per l'aviazione 300 aerei persi dei loro migliori aerei d'attacco al suolo è una cifra enorme che ha dimezzato letteralmente la capacità aerea della russia la stessa cosa per gli elicotteri i loro elicotteri migliori difficilmente sostituibili insomma la lista è lunga e ormai è unanime il discorso che non potranno andare avanti per le lunghe tra l'altro riporto anche alcuni discorsi fatti a in ambiente nato per cui si pensa che potremmo essere vicini a un'eventuale situazione ne ho sentito giusto questo è un rumor se vedremo nei prossimi giorni cosa a cosa porterà potrebbe essere vicina una soluzione in cui la nato inizierà a presidiare l'ucraina che è ancora ucraina e lasciare invece agli ucraini la difesa delle almeno i tentativi di riconquista dei territori occupati per cui questa potrebbe essere una soluzione in cui la nato prende in carico il territorio ucraino inizierà a difenderlo seriamente da eventuali tentativi di conquista russa e questo modo lascerebbero agli ucraini il compito di occuparsi dei territori occupati dai russi questa potrebbe essere un'idea ma chiaramente non mi sbilancio più di tanto e non sono io a dirlo ora se dobbiamo considerare poi i progressi russi sul campo continuano nell'area di cura cove in quest'area stanno ottenendo i progressi con progressi qualche centinaio di metri al giorno con questi vettori di di pressione qui verso cura cove è una manovra attenaglia qui quindi mentre la direzione verso in direzione di pokrovsk sono fermi ormai da due settimane e in quest'area non si vedono progressi da parte russa ripeto faccio notare come le narrazioni cambiano perché due settimane fa si dava per spacciata pokrovsk ad oggi invece la situazione non cambia non vediamo nessun progresso da parte russa è chiaro che pokrovsk ha un'importanza minore rispetto a cura cove che se conquistata gli permetterebbe di chiudere tutta quest'area però ecco i 5-6 chilometri che mancano per la conquista di pokrovsk per entrare con cui qui sta un altro discorso per entrare in periferia di pokrovsk non sono questa questa avanzata è ferma da giorni uno dei motivi è perché gli ucraini hanno una difesa c'è tutta una fortificazione su questa linea quindi è per questo che non vediamo progressi probabilmente allora interessante questo video devo togliere l'audio per evitare di avere noie con il copyright ma ci sono i soldati ucraini che visitano i dei vecchietti nella regione di kursk queste questi video sono bellissimi perché insomma lui il soldato ucraini arriva e dice eccoci i fascisti sono qui vieni vieni dentro dice no non posso venire dentro ma ti ho portato il pane io non sono fascista oggi no 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 so tutto normale per oggi dice voi non siete mai stati fascisti dice il vecchietto dall'inizio ora la cosa interessante di questo video è che questi soldati mostrano a questi vecchietti le fotografie che non vi posso mostrare delle città ucraine distrutte e insomma vi passo il link in descrizione perché sono delle reazioni splendide e anche molto esplicative che dei vecchietti che per vent'anni hanno visto la televisione russa e fra l'altro a un certo punto il soldato mostra alla signora una signora dice guarda che ecco in questo punto il vecchietto dice ma mostrami mario paul perché in televisione hanno mostrato che è stata ricostruita che ci sono strade nuove edifici nuovi e il soldato ucraino dice guarda che non è niente vero e gli fa vedere mario paul come sta come oggi come è stata distrutta e gli spiega che 20.000 persone sono morte lì tutte civili e che adesso mario paul è un cimitero a cielo aperto letteralmente quindi insomma questo è un video che appunto manderei a putin come regalo oggi per quello che vale visto che alla fine abbiamo capito che non se ne frega niente in quest'altro video che non vi posso mostrare un drone russo segue un utilitaria una macchina con dei civili ucraini siamo nella regione di kharkiv e a un certo punto il drone ucraino lancia le sue bombe contro questa macchina e i civili all'interno muoiono quindi questa è la situazione l'ucraina viene bersagliata tutti i giorni da attacchi missilistici e dronici da parte russa ieri 87 shahed per gentile concessione dell'iran alla russia quindi complimentoni 56 di questi sono stati distrutti 25 droni sono stati intercettati con i sistemi di guerra elettronica 4 uav intercettati e due missili da crociera su 4 da parte ucraina si segnalano questa notte attività in crimea questo è un video di un residente che ha riportato esplosioni nella zona di saki qui per intenderci in quest'area qui dove è presente un aeroporto con alcuni aerei russi almeno se a giudicare dalle immagini satellitari su 24 e su 35 su 30 questi sono a b posto da destramento fondamentalmente anche se comunque possono sganciare bombe mentre non vi posso mostrare le immagini ma il colpaccio gli ucraini l'hanno fatto nella zona di feodosia precisamente nella zona dei depositi di carburante questa che sono adesso che vi sto parlando sono in fiamme ci sono grosse colonne di fumo diversi video dei residenti con le fiamme che si sono sviluppate all'interno del deposito del più grande deposito di carburante della crimea bene andiamo avanti allora sempre parlando di regalucci per mister putin la svezia ha concesso i suoi mezzi blindati in disuso non so come leggerlo panzar bavgne panzar banga aiuto vabbè insomma questi mezzi sono stati dati all'ucraina è chiaro che non stiamo parlando di mezzi pesanti sono cingolati per trasporto truppe con una mitraglietta penso da 20 mm e questo è però sempre meglio averli che non averli altra notizia invece più interessante è che i paesi bassi l'avevo già confermato nei giorni scorsi paesi bassi più comunemente chiamata olanda ha dismesso i suoi f16 bloc 52 gli f16 olandesi hanno raggiunto la fine del loro ciclo operativo che non c'entra con vita operativa questi f16 possono continuare a volare ancora a lungo perché perché comunque l'olanda ha acquistato acquistato gli f35 che sono in consegna quindi il passaggio è iniziato gli f16 non servono più di conseguenza sono stati dati all'ucraina infatti le consegne avvengono in queste ore la cosa più interessante di questi f16 bloc 52 che vediamo in questa foto oltre che avere l'avionica aggiornata di questo ne avevo già parlato oltre ad avere il caschetto con la proiezione dei dati integrati un radar migliore un avionica migliore in generale delle contromisure elettroniche oltre a questo ha un sensore ultramoderno che è lo sniper pod questo sensore qui qui sotto oltre a questo lo vediamo equipaggiato con le q 184 co versione corta questo è un pod per le contromisure elettroniche allora lo sniper pod intanto questo oggetto è un sensore ultramoderno la versione migliorata del lightning che serve per fare ricognizioni aeree a una telecamera molto potente che ha funzioni sia televisive che infrarosse questo oggetto praticamente serve per guidare le bombe fino al bersaglio per fare ricognizioni acquisire coordinate ed è provvisto anche di un sensore di una di un proiettore laser che serve appunto per guidare le bombe con più precisione fino al bersaglio con la guida laser insomma questo è il sensore per la ricognizione aerea e la guida delle bombe ed è molto più potente della versione precedente il cosiddetto lightning fra l'altro le immagini di questo sensore e del sensore precedente sono diventate famose nei telegiornali cioè tutte le volte che vedete lo schermetto in scala di grigi dove si vede l'esplosione di una bomba che colpisce anche per esempio in israele un edificio arriva da questo sensore qui o la sua versione precedente il fatto che gli ucraini possano usarlo è significativo specialmente se inizieranno a fare missioni di attacco al suolo in ogni caso il sensore specialmente lo sniper pod può essere utilizzato anche in aria aria infatti permette il riconoscimento e a distanza dell'oggetto che si inquadrando con il radar e questo da un'arma una marcia in più all f16 che non ha un sensore ottico integrato a solo il radar per fare aria aria quindi questo permetterebbe eventualmente agli f16 ucraini che in questi giorni stanno facendo missioni di interdizioni aerea gli permetterebbe una volta acquisito l'oggetto misterioso che entra nello spazio aereo ucraino con il radar semplicemente con la pressione di un tasto potrebbero inquadrarlo via televisiva e riconoscerlo quindi è una marcia in più per riconoscere un oggetto per esempio da un esca come un drone rispetto a un missile da crociera tanto per dirne una quindi insomma le possibilità sono tante e ripeto nel momento in cui inizieranno a usare questo aereo per fare attacco al suolo con questo sensore potrà esprimere tutto il suo potenziale specialmente se parliamo dell'uso di missili come le j-saw le j-damm missili e bombe di precisione che appunto vengono utilizzate in sinergia con questo pod per quanto riguarda questa foto poi vabbè vediamo il al 184 che è un potente emettitore di impulsi elettromagnetici che si comunemente chiamati contro misure elettroniche per la guerra per la per la per la guerra elettronica cosa fa questo pod serve a generare un disturbo che in poche parole dà la possibilità all f16 di avvicinarsi di più ai suoi bersagli come per esempio i sistemi missilistici a terra quando questo sensore viene utilizzato maschera la traccia radar dell'f16 e di conseguenza tutte quelle postazioni a terra che cercano di agganciarlo fanno più fatica quindi l'f16 si può avvicinare di più stessa cosa vale per la la il combattimento aria aria questa è una cosa che dico fra i denti poi dipende insomma ci sono non va utilizzato sempre ci sono missioni specifiche in cui va utilizzato la cosa un po complicata però in realtà è un disturbatore elettronico questi missiletti blu che vediamo in realtà non sono missili cioè sono dei simulatori fondamentalmente la testata è quella di un missile e serve tutto il resto poi in realtà è finto questi sono degli oggetti che servono per fare simulazione cioè i piloti decollano simulano dei combattimenti aerei il sensore del missile c'è ma il corpo no quindi non può essere lanciato tutto questo viene trasmesso a registrato in telemetria e poi in fase di debriefing il combattimento viene analizzato e viene studiato questa è una fase molto importante in cui serve per addestrarsi fondamentalmente sono dei missili che servono per addestramento bene detto questo andiamo avanti altre notizie per oggi non ce ne sono se non appunto sempre correlati a conferma di questi f16 volandesi consegnati all'ucraina che si spera vedere in azione a più presto e di portarvi notizie buone per il loro utilizzo e niente per concludere il video di oggi vi porto l'attenzione visto che me l'avete chiesto il su 57 russo perché qualcuno continua a scrivere che è l'aereo migliore del mondo i russi hanno una marcia in più patapi patapa l'ipersonicità eccetera eccetera allora non serve essere esperti di aviazione per sapere che la russia arranca da un punto di vista tecnologico sta dietro rispetto alla tecnologia europea in particolare figuriamoci quella americana ho preso questa foto per mostrarvi chiaro che stiamo parlando di un aereo molto bello ma perché i caccia su coi dagli ultimi 30 anni sono molto belli il su 27 è uno degli aerei più belli del mondo ma la bellezza è una cosa l'efficienza è un'altra stiamo parlando di aerei mastodontici da 20 tonnellate e c'è un motivo perché sono così grandi e il fatto è legato al fatto che chi progetta gli aeroplani sa certe cose i generali ne vogliono altre e diciamo questo è un conflitto ideologico che va avanti da decenni cioè da sempre i generali chiedono ai progettisti di fare degli aeroplani i progettisti sanno come spingersi entro certi limiti e i progettisti provano a dire no però i generali invece dicono no fai fare tutto al mio aeroplano voglio che abbia un'autonomia smisurata voglio che sia super cruise voglio un caccia bombardiere voglio che sia stealth voglio 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 il problema è che gli aeroplani sono sempre sempre frutto di compromessi cosa significa che per far volare un oggetto deve essere leggero quindi più cose ci metti dentro peggio vola un aereo da 20 tonnellate per quanto possa essere agile non sarà mai agile quanto un aereo che pesa la metà un su 27 un su coi 57 per quanto possa essere iper tecnologico agile non sarà mai agile come un f16 come un mic 29 come un mirage come un euro fighter stiamo parlando di oggetti che pesano la metà è proprio una questione di massa e pesi peso significa più inerzia quindi peggiore capacità di accelerazione e nel combattimento aereo l'accelerazione è tutto immaginate un pilota che deve evadere un missile e si trova fra le mani 20 tonnellate di aeroplano quando per evadere un missile l'unica cosa che ti serve è accelerare e andartene devi accelerare verso il terreno per prendere velocità devi accelerare per nasconderti dietro una montagna immaginate a quel punto avere 20 tonnellate quanto ci mettono ad accelerare non è come in automobile che tu premi l'acceleratore e c'hai l'attrito delle ruote con l'asfalto per aria perché un jet un motore jet entri a regime e ottenga la massima spinta ci vuole tempo velocità più velocità più aria entra all'interno delle prese d'aria più il motore diventa efficiente quindi finché l'oggetto è lento è lento non è che accelera così in un attimo se poi vogliamo anche la cosiddetta autonomia è chiaro che un aereo che riesce a attraversare tutta la russia senza rifornire si porterà dietro una marea di carburante e anche questo è un handicap poi i generali dicono eh voglio che porti 12 missili voglio che porti 10 missili anche questo è un handicap che ti servono 10 missili quando il primo che ricevi ti abbatte perché sei così pesante da non riuscire a scappare per questo l'f16 è un aereo è stato un aereo di così grande successo nella storia perché è il compromesso perfetto in poche parole è un aeroplano in grado di fare un po tutto bene ma eccelle nell'aria aria è un aeroplano minuscolo quindi naturalmente ha una ridotta rcs ha un motore potentissimo è una massa minuscola nell'arco delle 9 tonnellate quindi gli permettono di accelerare in un attimo il vantaggio dell'f16 è questo è il fatto che in qualsiasi momento se la situazione butta male il pilota accelera e l'aeroplano schizza via fuori dalla situazione si allontana dal pericolo in un attimo viceversa sei in una situazione di pericolo ma in quel momento ti sei liberato dal pericolo il pilota cosa fa da motore torna indietro accelera e in un attimo raggiunge valori di velocità e accelerazione tali per cui se lanci un missile in quel momento il tuo missile ha molta più energia e questo è tutto per questo dico sempre è un errore basarsi sulle tabelle le tabelle non significano niente dire che un sucoi 57 va a mac 2,5 e l'f16 a mac 1,5 non significa niente perché per ottenere mac 2,5 il su 57 deve attraversare tutto il caucaso deve fare mille chilometri per raggiungere quella velocità mentre l'f16 raggiunge mac 1 in 10 secondi capito cosa intendo quindi immaginate il lanciatore olimpionico del giavellotto deve prendere la rincorsa e lanciare il giavellotto ora immaginate un uomo sovrappeso che pesa 300 kg che ha una grande forza nel braccio quanto ci mette per accelerare e raggiungere la velocità per lanciare il giavellotto questo è il principio se poi parliamo di stealthness è chiaro che le geometrie della sezione frontale dell'aeroplano si presentano con delle soluzioni per ridurre la sua firma radar ma non basta perché poi vediamo una cosa fondamentale nella cosiddetta stealthness la cura dei dettagli ora il sensore ottico frontale questo non è stealth tutte queste sporgenze questi il cannoncino vedete tutto questo non è stealth queste ali questi sono in poche parole sono dei una sorta di evoluzione del concetto di canard del su 35 che gli danno manovrabilità ma non stiamo parlando di cose stealth sono dei compromessi un'intenzione se poi andiamo a guardare tutta la parte posteriore dell'aeroplano vediamo un su 27 questo aereo è quello che ho sempre detto è un su 27 extended con una riduzione dell'rcs ma sempre un su 27 e dietro nella zona posteriore non è schermato via infrarossa non è schermato via radar ora per mostrarvi la differenza questo è un f 22 guardate la cura dei dettagli e non stiamo parlando di un aereo fresco f 22 2005 2006 quindi stiamo parlando di almeno 12 anni 13 anni più vecchio rispetto a un su 57 eppure in confronto mostro questo mostro questo sembra di vedere insomma due mondi diversi come approccio tecnologico e cura cura dei dettagli sull f 22 non si vede nessuna sporgenza niente di tutto questo perché sanno che le sporgenze ti distruggono l'rcs ancora di più per esempio lo vediamo sullo stato dell'arte della cosiddetta invisibilità questo è un f 35 tutto quanto è nascosto e annegato gli rivetti sono pesantemente nascosti a differenza del 22 che vediamo in questa foto il 22 ha delle vernici e dei materiali radar assorbenti ok però è come devo dire da un punto di vista ingegneristico è una generazione indietro rispetto all'f 35 l'f 35 invece fresco fresco del 2019 come aereo presenta una pellicola riveste un rivestimento è una sorta di vestito che copre la superficie dell'aeroplano iper tecnologica che serve proprio per assorbire le onde radar poi oltre a questo c'è una cura maniacale su tutto quello che può emettere onde di ritorno addirittura la presa d'aria è studiata perché si è scoperto che il flusso d'aria che entra nelle prese d'aria può fare da ritorno quindi anche questo è stato ridotto con queste bombature e questo è con questo cari amici vi saluto ringrazio ancora vito per la immagine che mi lasciate mele sempre ben accetto e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale lasciato mi piace come sempre un abbraccio alla prossima